Anche noi sbagliamo tante volte su questo, no? Io ho tanta fede, sentiamo dire. Io credo tutto, tutto. E forse questa persona che dice quello ha una vita tepida, debole. La sua fede è come una teoria, ma non è viva nella sua vita. L'Apostolo Giacomo, quando parla di fede, parla proprio della dottrina, di quello che è il contenuto della fede. Ma voi potete conoscere tutti i comandamenti, tutte le professie, tutte le verità di fede, ma se questo non va alla pratica, non va alle opere, non serve. Possiamo recitare il credo teoricamente, anche senza fede. E ci sono tante persone che lo fanno così. anche i demoni, eh? I demoni conoscono benissimo quello che si dice nel credo e sanno che è verità. Tremano, dice l'Apostolo. Sanno che è verità, ma non hanno fede. Anche loro conoscono tutta la teologia. Anche i demoni sanno a memoria il Densinger, tutto. Ma non hanno fede. Avere fede non è avere una conoscenza. Avere fede è ricevere il messaggio di Dio che ci ha portato Gesù Cristo. Viverlo e portarlo avanti.